Abbiamo delle aree archeologiche, abbiamo chiese, abbiamo palazzi, ma abbiamo anche la necessità di costruire quello che manca, i servizi, i collegamenti, i parcheggi, la rete delle mobilità. Tutto questo il PSC lo prevede? Rispetto a questo il PSC non dice nulla, non dice nulla. E quindi è questo, diciamo, la visione, un piano, un piano si declina attraverso delle fascinazioni che poi si sostanziano attraverso progetti. Lei sta dicendo che questo è un piano strutturale senza anima? È un piano strutturale che secondo me guarda al passato, è figlio di una concezione urbanistica che guarda al passato. Superata, sostiene lei. Oggi, dopo gli eventi tristi, gli eventi alluvionali, i problemi di sestruo geologico, i problemi di competizione con gli altri contesti territoriali su quelle che sono le risorse, il nostro petrolio e la cultura, è chiaro che bisogna immaginare la programmazione del territorio partendo da due, tre obiettivi chiari, puntare su quegli obiettivi nell'interlocuzione con i livelli salvardinate da una parte e con la possibilità di intercettare risorse finanziarie per cambiare seriamente il volto di questa città. E' questo a cui è chiamata la politica, la politica di maggioranza e di posizione, perché questa è una questione che riguarda tutta la città. Grazie a tutti.